Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Verde, una book blogger da diversi anni e questo canale non è altro che la costola del mio blog dedicato alla mia grande passione, cioè ai libri. Sul mio blog parlo di ciò che leggo e ciò che scrivo e la stessa cosa vale per questo canale. Se siete curiosi di investigare il mio blog che si intitola l'arte dello scrivere forse, trovate il link nell'info box a ogni video di questo canale. Se invece vi interessa di più seguire il mio canale youtube sempre dedicato ai libri, potete iscrivervi cliccando sul bottone e magari cliccare anche mi piace ai miei video. Il video di oggi, dopo la sequenza delle liste di libri dedicate ai miei romance preferiti, ai miei ducchi preferiti all'interno del genere romance, ai miei marchesi conti, visconti preferiti all'interno del genere romance, alla mia lista dei libri romance che rileggo più spesso, alla mia lista di libri romance senza protagonisti nobili, alla mia lista di libri romance simili alla serie Bridgeton, ecco a voi la mia lista di libri romance medievali. Mi è stata chiesta ed eccola qui. Allora, piccola premessa che però è fondamentale, io non amo i romance ambientati in epoca medievale. A me piacciono soprattutto i libri romance ambientati nell'epoca Regency e al secondo posto mi piacciono quelli ambientati alla fine dell'Ottocento nell'America diciamo coloniale, quindi la corsa verso l'Ovest, quel genere di ambientazioni. Mentre per quanto riguarda l'epoca Regency mi piacciono i classici romance ambientati nell'Inghilterra Regency, ok? Devo dire che sono molto classica in questo, questa è la realtà, però essendo una lettrice compulsiva leggo veramente di tutto, tutti i generi e tutti anche i generi all'interno del romance, oltre che all'esterno, quindi leggo anche qualche romance medievale se mi capita e mi è capitato comunque di leggerne anche di molto validi e ho qualche mio preferito anche all'interno di questa epoca, però sono pochi quindi sarà una lista molto breve. Allora, al primo posto della mia lista di romance medievali preferiti c'è il cristallo verde di Amanda Quick, che in lingua originale dovrebbe essere intitolato Mystique. Vabbè, allora, se seguite questo canale o se seguite il mio blog voi sapete che io amo Amanda Quick, io e lei la pensiamo allo stesso modo per quanto riguarda le trame, quindi troverete un suo libro in quasi tutte le mie liste di libri, già siete avvertiti. Il cristallo verde è un romanzo medievale e la Quick non ne scrive molti di romanzi medievali, secondo me ne avrà scritti due, se non mi ricordo male, perché la pensa come me, quindi io non lo amo e anche lei si dice che non ha il suo periodo preferito, però comunque sì, è un gran bel libro, forse uno dei suoi più bei libri come genere romance, perché dopo lei è anche genere giallo, genere sci-fi, paranorma, quindi diciamo che spazio come genere. All'interno del romance classico questo romanzo medievale comunque è molto molto bello, non era nella mia lista di romance preferiti perché io non amo questa epoca, quindi non poteva esserci, ma comunque rimane un gran bel libro e un suo classico libro, quindi con protagonisti fuori dalle righe. Qui abbiamo per esempio una donna medievale con una mente molto scientifica, molto alchemica, molto moderna per l'epoca, poi abbiamo un po' di magia, di superstizione, un cavaliere burbero, delle scene molto ironiche e divertenti, è un gran bel libro che vi consiglio, perché secondo me è veramente uno di quei romance adatti a tutti, cioè proprio a 360 gradi. Un altro romance medievale che è nella mia libreria, e non sono tanti, è il primo bacio di Joanna Rinsley, comunque trovate nell'info box tutto l'elenco dei libri, anche con i link per reperirli, e il link al post su mio blog che ho dedicato a questa lista, voi potrete leggere anche tutte le trame dei romanzi più approfonditamente. Il primo bacio di Joanna Rinsley è un gran bel libro, classico, abbiamo due promessi sposi che sono stati promessi sposi dalle famiglie, e non è che si stiano granché simpatici, perché soprattutto lei non ha molta voglia di sposarsi con chi ha deciso la sua famiglia, e quindi fin da piccola diciamo che è stata piuttosto antipatica verso il suo promesso sposo già quando erano bambini. Invece lui, insomma, ancora ancora, sapete come gli uomini, non è che si pone tanti problemi verso il futuro, gli hanno già trovato la moglie, lui se la farebbe anche andare bene, cioè non è che ha questi problemi, però se lei lo tratta a pesci in faccia, insomma, gli dispiace, diciamo così. Quindi c'è questo contrasto tra i due, però lui è deciso a cercare di far funzionare la cosa, ecco, e quindi c'è una battaglia dei caratteri, come comunque c'era anche in Mystique, cioè nel Cristallo Verde di Amanda Quig. Allora, è una trama classica del romance, cioè se fosse stato solo per la trama questo è un classico romance medievale che non avrei mai comprato, perché mi piacciono le trame alternative, i personaggi alternativi, le cose un po' fuori dal solito, però Joanna Linsley, la conosco, so come scrive e lei, anche se non è innovativa in termini di trame, però è veramente, veramente brava con i personaggi e riesce molto a coinvolgerti nella storia creando dei personaggi in cui tu riesci benissimo a immedesimarti. Quindi anche la trama più banale scritta da lei, che è anche sempre leggermente ironica, però romantica, diventa qualcosa di non banale. E infatti anche questo libro, nonostante sia veramente uno dei più classici che lei abbia scritto, resta comunque un gran bel libro. Non una roba che io metto nel mio top dei libri, però un gran bel libro e quindi meritava comunque di essere in questa lista, anche perché è uno dei pochi medievali che ho, quindi doveva esserci. Poi, vabbè, non poteva mancare in una lista di romance medievali, il lupo e la colomba di Kathleen Woodweiss, perché è un classico del romance, cioè se siete amanti del romance o lo avete appena scoperto, magari grazie alla serie di Netflix di Bridgerton, cioè Kathleen Woodweiss va letta. Almeno due o tre romanzi suoi vanno letti e il lupo e la colomba è veramente la base di ogni romance, cioè nel senso, siamo nell'Inghilterra del 1066, ci sono i sassoni che hanno invaso l'Inghilterra e quindi abbiamo gli sconfitti e i vincitori, quindi abbiamo un guerriero che si impadronisce di un castello e della giovane che era l'erede di questo castello e che la sposa perché ha guadagnato il fatto di sposarla con la forza delle armi. Capirete lei quanto è ben disposta verso sto qui che le ha rovinato praticamente la vita e l'esistenza perché la vita come la conosceva non esiste più a causa di questa conquista, però pian pianino i due dopo un forte contrasto, quando dico forte dico forte, impareranno a capire che comunque a parte i loro ruoli politici in questa invasione sono anche due persone in fondo e quindi nessuno dei due è completamente cattivo e nessuno dei due è completamente buono o senza colpe e quando capiranno questo capiranno anche che magari possono convivere e magari anche amarsi. Non è un romanzo moderno, siete avvertiti ha i suoi anni e secondo me li dimostra, non è uno dei più moderni della Budweiss, non è uno dei più facili o simpatici perché ci sono anche delle scene abbastanza pesanti probabilmente per alcuni, ma è un romance classico che secondo me va letto a prescindere dai gusti personali e soprattutto se amate quest'epoca, cioè l'epoca medievale comunque se presa da un autore realisticamente era un'epoca sanguinaria, cioè inutile che ci raccontiamo altro, probabilmente più, molto più violenta che non l'epoca Regency, quindi se uno ama quest'epoca deve amare anche certe cose che sono collegate con questi, ok? Basta aver letto per esempio I pilastri della terra di Ken Follett, cioè non mi dite che non è violento quello, nel senso a volte quando sento qualcuno che si lamenta di alcune scene dentro un romance dico, e beh allora perché sono accettabili dentro un romanzo storico, non tacciato di romance e non sono accettabili dentro un romance, se un romance o un libro qualsiasi sono ambientati in un'epoca in cui fatti di sangue del genere succedevano non vedo perché l'autore non debba raccontarli, poi per carità c'è modo in modo e ci sono le scelte artistiche da un autore all'altro, ma se stiamo parlando di un'epoca che era in un certo modo non vedo perché bisogna censurarla, sinceramente questa è la mia opinione e andiamo avanti perché non è questo la sede dove discutere queste mie convinzioni, ecco un libro che io metto in questa lista di romance ma che in realtà secondo me è un romanzo storico più che un romance, però c'è una storia d'amore all'interno quindi potrebbe anche rientrare in questa casistica, è La Camera delle Signore di Jean Baudrin. Questo è un classico, un classico della letteratura, un bellissimo ritratto di un'epoca buia attraverso due figure femminili, una madre e una figlia e io lo ritengo uno dei più bei romanzi ambientati in quest'epoca è un po' tipo quello che Anna Karenina o Madame Bovary sono per la letteratura francese o la letteratura russa, cioè secondo me La Camera delle Signore è all'altezza della Signora delle Camellie, cioè solo che sono ambientati in due epoche storiche diverse ma è veramente bello, cioè un romanzo intimista dell'animo femminile però nel medioevo è molto molto bello, ve lo consiglio soprattutto se avete amato Madame Bovary o Anna Karenina e già qui capirete un po' la trama di cosa parla perché se vi faccio questi paragoni non è a caso. Poi in lista metto anche Gianna Sevieridiana, Il cuore d'inverno di Francesca Cani, ambientato anche questo nel 1095, quindi in pieno medioevo, che dire, a me piacciono tutti i libri di Francesca e non solo perché è mia amica e coautrice di romanzi che abbiamo scritto insieme, però forse questo è il mio preferito, gliel'ho già detto diverse volte, probabilmente è dovuto al fatto dell'ambientazione, soprattutto perché è ambientato durante una crociata e quella capitanata da Goffredo di Buglione e è veramente uno spaccato storico perché comunque abbiamo un viaggio dall'Occidente all'Oriente, abbiamo uno sguardo storico su cosa stava accadendo all'epoca e all'interno dopo abbiamo anche la storia di Jonas e Viridiana, i due personaggi molto molto particolari, io quando lo lessi lo paragonai molto al film le crociate perché contiene veramente tutto, soprattutto Viridiana ha anche delle capacità mistiche diciamo così e comunque c'è anche un mistero da svelare e la sorte di due bambini rapiti da scoprire, quindi è veramente avvincente, avventuroso, romantico chi più ne ha più ne metto, è come se prendesse le premesse di Il lupo e la colomba della Woodvice, quindi abbiamo comunque un conquistatore e un conquistato che in questo caso sono Jonas e Viridiana, che però dopo Francesca espande questi due personaggi che la Woodvice aveva tenuto chiuso tenuti chiusi in un ambiente chiuso, quindi questo castello inglese, invece lei prende questi personaggi che comunque sono molto più complessi che non quelli della Woodvice e li butta nel mondo ed è non un mondo qualsiasi, un mondo e dei luoghi dove stanno accadendo fatti storici fondamentali per la storia dell'Occidente e dell'Oriente quindi è veramente storico come libro, anche qui non so se lo dovrei mettere in una lista di romance però all'interno c'è una forte storia d'amore, è una componente romantica e la mia lista di Medievali era breve quindi ce lo metto e comunque ve lo consiglio ma ve l'ho già consigliato altre volte sul mio blog poi la mia lista continua con adesso due libri inediti in italiano perché io leggo in inglese e purtroppo non tutti i libri che leggo sono ancora disponibili in italiano anche se non sto parlando di libri nuovi per niente allora il primo libro che secondo me è veramente veramente carino e mi spiace un casino che non sia disponibile in italiano è The Usbantest di Bettina Cran che tradotto in italiano sarebbe il test del marito Allora, è la storia di una... è divertentissima questo libro questo è uno dei rom medievali più divertenti che abbia mai letto praticamente la protagonista femminile è una novizia di un convento le spose della virtù si chiama questo commento perché comunque ospita anche ed educa delle ragazze fino a che arrivano all'età da marito e si dice che le spose educate nel convento delle spose della virtù siano tra le più virtuose quindi sono spose molto ambite allora, la novizia, una novizia di questo convento però è Luisa è un disastro è un disastro, lei è una persona veramente energica buona, generosa che si fa in quattro per gli altri che vuole provare alla badessa che lei è brava e più lei si impegna per fare qualsiasi cosa più combina dei disastri arriva al punto che a momenti rade al suolo con un incendio il convento e la badessa dice qua è il caso che la mandiamo via perché altrimenti ci colapico tutta la baracca è un po' più o meno come le scene iniziali quindi tutti insieme appassionatamente quando c'è la badessa che dice cosa dobbiamo fare con Maria che non è adatta a fare la suola questa povera crista e lo stesso vale per Eloise anche qui però la badessa non vuole deludere più di tanto la ragazza quindi trova una scusa per mandarla via e la scusa che trova è il primo cavaliere che si presenta al convento in cerca di una sposa virtuosa invece di dargli una delle loro pupille si inventa che non funziona così la cosa anche se in realtà funzionerebbe così ma che è uso che lei mandi una suora al castello del cavaliere e che la suora lo sottoponga ad un test a delle prove e solo se il cavaliere supera queste prove la suora tornerà al convento e dopo il cavaliere potrà avere una sposa virtuosa e con questa scusa manda Eloise con sto povero cavaliere che si rende quasi subito conto di quello che la badessa gli ha fatto perché comincia a combinarli in guai già durante il viaggio è una minaccia per l'umanità sta povera ragazza però un guaio su, un guaio giù una prova assurda su e giù perché la badessa non aveva siccome non era vero questa cosa delle prove non aveva queste prove da fargli fare allora aveva tirato fuori un tomo antico di non so quanti anni insomma l'aveva dato alle Eloise che un po' lo traduce un po' no un po' si inventa modernizza le prove se ne inventa quindi sto povero Cristo di cavaliere si ritrova che è un qualcuno che a momenti gli distrugge il castello a fare delle prove assurde però diciamo che lui un pochino se lo merita perché non è il cavaliere col carattere migliore di questo mondo e le prove di Eloise aiuteranno anche lui stesso comunque a rendersi conto che magari deve essere un po' più gentile con la gente e però una prova domani comunque lui si rende conto anche delle buone qualità di Eloise e anche si rende conto del fatto che Eloise non è fatta per fare la suora un po' come sempre in tutti insieme appassionatamente alla fine capirete che i due si innamoreranno eccetera eccetera adesso vi ho rovinato tutto però il libro è talmente bello che volevo farvi capire che secondo me merita purtroppo come vi ho detto non è edito in italiano ma se leggete in inglese o in un'altra lingua perché comunque è stato tradotto in spagnolo francese, tedesco eccetera leggetelo perché se vi piacciono le storie ironiche è veramente fantastico io lo adoro certo non aspettatevi un romance tipo il primo bacio della Lincei non è il classico romance romantico è il classico romance romantico ma soprattutto ironico questo quindi abbiamo anche delle scene assurde quindi se amate le scene assurde leggetelo se volete invece qualcosa di ironico ma con scene meno assurde allora leggete il prossimo che vi presento adesso che è Bliss di Lincei Sands lei che siano romance medievali che siano romance paranormal che siano urban fantasy lei ha il suo metodo ha il suo tipo di trama e lì lei si incunea quindi se siete in un periodo che volete leggere quel tipo di trama semplice ironica ma a volte con quel pizzico di dialoghi veramente veramente ben fatti Lincei Sands è l'autrice che fa per voi Bliss è appunto uno dei suoi romance medievali ma ne è scritti anche tanti altri e parte più o meno dal presupposto di altri libri della lista perché capirete che è un trend quando si tratta di romance medievali è un trend cioè parto sempre da due persone che cozzano cioè l'una con l'altra sono sempre in antitesi e in conflitto cioè sono gli unici romance medievali che riesco a leggere poi questo mi era stato anche suggerito da un'amica quindi comunque andavo anche qui sul sicuro cioè nel senso abbiamo due vicini Lord Holden e Lady Ellen e ognuno e ognuno si lamenta dell'altro con il re è perché lui tratta i vicini così è perché lei scaccia i miei maiali dal recinto ovest è perché lui è perché là insomma sono a dirsi su dalla mattina alla sera si scrivono lettere di fuoco l'un l'altro e tutti e due si lamentano anche con il re e dicono no non ne posso più non ne posso più allora il re dice sentite sono stanco non rompetemi più la soluzione è semplice tu sei scapolo tu sei nuvile sposatevi non so se era vedo insomma come sposatevi tra di voi e vedrete che tutti i vostri problemi si appianeranno primo perché unirete i vostri territori e quindi dovrete giungere a un accordo su come trattare il vostro popolo eccetera e secondo perché dopo in camera da letto si appiannano tante cose e diciamo che comunque il re non aveva tutti i tortini però la parte più bella comunque di questo libro è i dialoghi molto effervescenti tra i due che non se le mandano a dire a lei ecco se in The Usman Test erano le scene proprio tipo delle vignette spassosissime che la facevano da padrone qua sono i dialoghi e sono veramente spassosi è un gran bel libro che vi consiglio anche questo purtroppo però se leggete l'inglese francese tedesco perché in italiano non è stato tradotto non so perché se mi sbaglio ed è stato tradotto e solamente io non l'ho trovato fatemelo sapere perché così lo metto nell'infobox in modo da renderlo reperibile per la maggior parte delle persone e qui si chiude la mia lista perché avevo detto era breve io di romance medievali ne ho pochi e quindi questo è tanto spero che comunque vi potrà essere utile e mettetemi pure nei commenti nell'infobox invece quali sono i vostri romance medievali e cercherò di dargli una chance se qualcuno mi ispirerà ma non vi prometto niente perché non è tra i miei periodi storici preferiti in questo genere qui vi saluto se questo video vi è piaciuto cliccate su mi piace e se pensate che questo canale possa fare per voi se la letteratura e i libri vi interessano iscrivetevi in modo da non perdere nessun nuovo video saluto